Venite gente, venite gente, Nazare, Nazare, guarda, vuoi essere più bella del mondo Nazare, tu trovi quattro casette di pietra, tu trovi quattro e cinque file di uva, tu trovi qualche campo di orzo e tante mandorle, tante piante di mandorle, io vado fare vacanza a Nazare, e certo, certo, è sempre, sempre uguale la mia Nazare, c'è lì bottega di fabbro, e vado via, e lì c'è, c'è carpentiere, carpentiere. Io uscivo davanti alla casa di Maria, con un antico rituale del legno, e stofa! La piccola dolce Maria lavorò dentro casa, e fuori, nei campi, trascoltava il rumore del vento, e guardava un po' le luci. Ho visto, una luce fortissima. Tu concebirai un figlio, lo darai alla luce, e lo chiamerai Gesù. Colui che nascerà, sarà dunque santo, e chiamato figlio di Dio. Sono la serva del Signore, a vendermi quello che hai detto. A Bunkipà, nel Kadesh, a farà, è l'ogine di sangue. C'è che c'è avuto, che adesso non va più di moda il libro. A Nordico? Perché va di moda. Da noi a Nazareth va di moda la lanna. La lanna! Guarda! Che arriva per te Giuseppe? Che ti avevo detto? Maria! Sì Viaggio insieme lungo le strade Questo viaggio è stata una benedizione per Maria Giuseppe Perché Nazareth paese piccolo, gente mormona E così, in quella notte incantata Sulla piccola beteleme Si posò una grande stella Su quella piccola povera grotta Grazie mille 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 Grazie mille